E' arrivato il momento che tutti voi state attendendo in maniera spasmodica Lanciamoci nel mondo degli spoiler della magia Partiamo subito con una carta che, sono certo, vi piaccia Partiamo subito con un elfo Partiamo subito con un elfo Un nuovo elfo di Dungeons & Dragons Una creatura leggendaria Elfica Chierico Spara l'elfo! Spara l'elfo! Voglio sentire mille spara l'elfo qui in chat questa sera Spariamolo questo cazzo di elfo Fingiamoci americani e spariamo a vista gli elfi E allora Costa uno bianco, uno verde e due due Quando guadagni punti vita Metti un segnalino Più uno più uno Sulla Moondancer E profetizza uno Spara l'elfo! Sto rindo per l'idiozia assoluta che ha scritto Prada Potete bannarlo, per favore, grazie Sto gli ho già malo dato avanti le palle degli occhi Per favore Allora, due mano a due due Aia, mi fa male pure il fianco Non posso ridere così Alla mia età Allora, due mano a due 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 mano a due due Quindi un elfo e tutta la volta che guadagni punto vita Si buffa E scrai e profetizzi uno Però è quando guadagni punto vita Non è per ogni punto vita guadagnato Non è per ogni punto vita guadagnato Che si buffa E scrai, ok? Però sembra un'ottima carta da limited Non credo che possa mai essere ormai una carta da constructed Sembra troppo lenta per il constructed Però il limited è sicuramente un elfo da sparare Molto veloce Cioè questa volta veramente spara l'elfo Questa volta veramente spara l'elfo Perché questo coso diventa gigantorme In brevissimo tempo Lo ripeto Due mano a due due Quando guadagni punti vita Metti un segnalino più uno più uno su di lei Quindi diventa 3-3-4-4-5-5 E profetizzi uno Attenzione Il grassume Totale Ora costa 9 Creatura leggendaria Dinosauro Quando entra in gioco Se lo hai lanciato Se lo hai castato Guadagni a rapidita And word 10 Word 10 significa che devi pagare 10 in più Per bersagliarlo Quindi è praticamente Posso dire che c'ha Exproof Possiamo dire che c'ha Exproof Potevamo farlo direttamente con Exproof Questa cosa No Ah no non posso Ah non posso Vabbè Allora facciamo word 10 Quando Tarask Attacca Quindi quando attacca Sfaita Una creatura Controllata dal giocatore in difesa Quindi quando attacca Gli scippi pure una creatura Ma è pure counterabile questa cosa Ma quanto è scarsa sta carta Che cazzo serve Ma a che cazzo serve questo maiale schifoso Non ha manco le unghie Non ha travolgere E' vero che non ha travolgere Però Ammazza le creature quando attacchi Ma è una merda assoluta Cosmica Ingiocabile Quasi anche il limited Ingiocabile Certo il limited è molto forse Ci arrivi a nome male E' fortissimo il limited Hai vinto Praticamente hai vinto Posso dire Praticamente hai vinto il limited E fu così che Divenne una staple assoluta Attenzione una terra Se controlli due o più altre terre Entra in gioco tappata Tappa da mano a nero Con quattro Fino alla fine del turno Diventa una 3-3 Con minacciare Beh Anche diciamo un'abilità evasiva E quando questa creatura attacca Esira la carta Bersaglio Dal giocatore In difesa Rimane una terra Beh Beh Allora Stanno uscendo un sacco di terre animabili Nel Anche in questo set D&D Avevamo iniziato il tutto Attraverso la Mutavolt In Caldeim Stanno uscendo però Ne sta uscendo una per colore Adesso qui Quindi ne uscirà una Una bianca Una nera Una verde Una rossa E una blu Quindi ci saranno le terre animabili Le terre animabili Di che mondo è mondo Sono sempre state carte molto forti Nell'universo magico E questa probabilmente non fa eccezioni E' un po' costoso Perché Minchia Cioè devi spendere 4 mana Per attaccare con una 3-3 Non è economicissima Minacciare è ottimo in aggro Certo E poi anche l'effetto Io non lo sottovaluterei L'effetto L'effetto di esilio Di carta dal cimitero E' anche interessantissimo Cioè Di solito le carte che esiliano Dal Dai cimiteri Sono carte che tu vai a inserire appositamente Post side Mentre questa è una carta E' praticamente un modo Un modo di avere Un effetto fortissimo In alcune situazioni di gioco Però comunque situazionale Sempre di main deck All'interno di una terra Addirittura Che smorca Quindi Io credo sia una Sia un'ottima carta Eccoci E questa è l'arte alternativa Ladies and gentlemen Io vorrei Un voto All'estetica Di questa carta Il voto di questo è O 0 O 10 Cioè non ci sono Questa è senza mezze misure Però è polarizzante È polarizzante Questo Questo genere di A È bianco-nero Non è grigio Se hai giocato a D&D Questa la ami Posso dire Che a me non piace D&D Cioè non mi diverte Ho giocato Non mi diverte D&D Non so per quale motivo Non mi ha mai divertito Forse non ho trovato il giusto master Per carità Però io amo lo stesso Quest'artwork Ugualmente Anche se non ci ho mai giocato Amo da morire Immagino 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 Quelli che invece amano Anche D&D Quanto sia duro Il loro cazzo In questo istante Ci siamo persi Questo meraviglioso artwork Adoro Anche questi artwork Qui Che è la versione Ingiallita Io le chiamo così Sapete che io Mi diverto a dare nomi Alle cose A caso Tipo il regino Degli scacchi Per cui vengo Redarguito Su youtube Questo è l'artwork ingiallito Dell'elfo Dell'elfo da sparare Del Trela Sarra Moon Dancer Sono semplicemente Magnifici Secondo me questi artwork Sapete cosa sembrano Sembrano degli schizzi Una bozza Ecco Sembrano un bozzetto Una sorta di bozzetto Sembra A me piace Piace da morire Veramente Piace da morire Fantastico Una serigrafia Un po' bello 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 Allora All of the storm giant Questa è la terra animabile Del blu Andiamo a leggerla Al solito Entra in gioco E controlli Due o più altre terre Entra in gioco Tappata Da mana blu Quindi può entrare in gioco Tappata Nei primissimi turni Con sei mana Fino alla fine del turno Si anima E diventa Un comodo 7-7 Gigante Blu Con World 3 Addirittura Pure con World 3 Non è Exproof Per fortuna Però con World 3 Beh 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 Questa ovviamente È una carta da control Se quella era da Agro Questa è chiaramente Una carta Da control Quella è una carta forte Ragazzi Questa è una terra fortissima Da standard Si giocherà Sicuramente Al 100% Ci metto la mano sul fuoco Votate 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 Sempre da 1 a 5 Mi raccomando Un'ottima terra da control Adesso si gioca Quella che Si buffa Con i segnalini Però questa Da mana colorato Questa da mana colorato Che è tanta roba Che è molto meglio Certo Quella però Entra sempre in gioco Stappata Però questa Da mana colorato Di nuovo E soprattutto Non la devi caricare Non la devi caricare 100 turni Per farla arrivare A 8-8 Certo Quella può diventare Pure 20-20 Fai un attacco solo E vinza Questo però D'altro canto Tappi 6 mana Quando ti serve E boom E puoi già Cominciare ad attaccare Subito come una minaccia Mortale Addirittura con World 3 Che la rende Più Imbersagliabile Diciamo Più imbersagliabile Rispetto a una terra Classica Quindi questa Un'ottima Aggiunta All'interno Dei mazzi Control Non è un'ottima figurina È una figurina Meravigliosa Meravigliosa Questa è la versione Figa Madonna mia Ma quanto sono Bruttissime Sono infinitamente Peggiori Le versioni Classiche Possiamo parlarne Per favore Quanto sono Peggio Quanto sono Più brutte Le versioni Classiche Rispetto alle versioni D&D Mamma mia Se ti tocchi Mamma mia Vabbè E qua E qua Si può anche Chiudere la live Signori E qui E qui Sono moduli Di D&D Sì E qui si può Anche Chiudere la live Secondo me Allora Io ho caricato Molte carte Su Instagram A proposito Putt'esclamativo Instagram Seguitemi Ho caricato Molte Moltissime Carte Su Instagram Ho ricevuto Molti direct In risposta Ecco Orso Palosso Solo su questa carta Nessuno ha scriveto E sono molto fiero Di questa Sono molto orgoglioso Sono molto orgoglioso Era l'azzolina Che diceva Sono molto orgogliosa Deve ricevuto Tipo 40 direct Solo su questa carta Sulle altre Zero Zero Su questo 40 E in assoluto La carta più apprezzata Di oggi Dal botto Della magia notturna Senza ombra Di dubbio 5 mana 4 4 Travolgere Quando entra in gioco Pesca una carta Cosa Ovviamente è fortissima Sarà il nuovo Sarulfo Slash orso Valosso Incredibile Ovvio Ad occhio Mi sembra Che si possa Come dire Conquistare Già una delle primissime Posizioni Tra le comuni Di questo set A me ricorda La scimmia La scimmia di M20 Ve la ricordate? Era fortissima 5 mana 5 4 Travolgere Quando muore Peschi una carta Mentre questo Peschi una carta Quando entra in gioco Posso dire che Sarulfo è più forte? Questo è forte Ma Sarulfo è ancora più forte Increibile Sarulfo è irraggiungibile Secondo me Veramente irraggiungibile È molto più forte Di Balosso È molto più forte Anche di questa Secondo me Sarulfo Sarulfo è Ovvio che è più forte Ma perché è ovvio? Cioè era È una comune Cioè quella era comune Questa era comune Non è una comune di Arabian Knight È una comune Di Calde In uscita l'altro ieri Un grasso Una creatura leggendaria grassa All'inizio del mantenimento Scegli un avversario Bersaglio Fino alla fine del turno Quel giocatore Non può lanciare Magie Tu puoi guardare La prima carta Del suo mazzo In qualsiasi momento E tu puoi giocare Per la carta Da quel mazzo E puoi spendere mana Di qualsiasi colore Per lanciare la magia Funziona come Experimental Frenzy Quindi guardo la prima La gioco Posso continuare a farlo All'infinito? Cioè è una fatal frenzy Sul mazzo dell'avversario? È una fatal frenzy Sul mazzo dell'avversario? Allora questa carta È scarsissima In constructed È una bomba Da limited Il limited La giochi Non te la tolgo No hai vinto Trento per cento per cento No ma che si giocherà Dario ma che pazzo Ma poi in questi colore Blu nera No secondo me È una merda totale Questa carta Flentissimo Statistiche Ignobili Per sei mana Non ha un cazzo Non c'è Word Non c'è Xproof Non c'è volare Non c'è un cazzo Non c'è flash Non c'è niente Una carta di merda Assoluta Secondo me fa schifissimo Questa è da modern Addirittura Bombissima Possibile ban Possibile ban Siete seri Attenzione Il koboldo Rovistador Korbordor Attenzione 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 Umana 01 Koboldo Massimo Koboldi Umana 01 Minacciare Pack Tactics Quando Minion Of the Mighty Attacca Se hai attaccato Con una gradura Con forza 6 O più Tu puoi mettere In gioco Una carta creatura Drago Dalla tua mano Tappate attaccante Coooo No Non l'avevo letto Tappate attaccante E c'è già una combo O TK turno 2 Con due infuriate Certo Infuriate Infuriate Shock persa Giusto così Perché già hai comunque Gold Spandragon Che sei contento Di avere nel mazzo A prescindere dal Minion of the Mighty In più Ci può essere Questa combo Questa è una carta Che ha un potenziale Incredibile Questa è una carta Che può essere Cioè può creare Un archetipo Nuovo Questa carta A tutte Come dire A tutte Le capacità Per poter creare Un nuovo archetipo Di Magic Cioè una carta del genere Potrebbe essere forte Anche in altri formati Potrebbe essere Che si giochi di più Magari in altri formati E non in standard Perché magari non ci sono Abbastanza carte Per renderla Per spaccare il gioco No Però magari in altri formati Ci sono abbastanza carte Che possono spaccare il gioco Attraverso questa carta Io non la sottovaluterei ragazzi La sfera Dell'annichilizione Costa uno nero E X Un artefatto Quando entra in gioco Con X segnalini Vuoto Come il calice del nulla La sfera del nulla Praticamente No All'inizio del tuo mantenimento Esilia la sfera del nulla E tutte le creature E i planeswalker Che costano Un numero di segnalini Vuoto O meno E tutte le creature E i planeswalker Nei cimiteri Sempre con Costo di mana X O inferiore Al numero di segnalini Vuoto Allora questa carta È lenta Fondamentalmente Allora sembra forte Così di default A guardarla Sembra di una Una specie di Sì vabbè Una specie di È uno di quegli artefatti Che fa Masseremo Fondamentalmente No Like Esplosivi Ingegnerizzati Like Polveriera Like Pernicious Did No A me ricorda Quel genere di carta Ok Quel genere di carta lì Però A differenza di queste altre carte Queste carte Diciamo che Questa è lenta È più lenta Perché non puoi Giocarla E spaccare E spaccare subito Cioè questo è il problema Non puoi giocarla E spaccare subito E soprattutto Soprattutto Se io gioco questa A turno 3 La metto con due segnalini Quindi non riuscirò A spaccare Quello che costa Che costa 3 o meno O 4 o meno Quindi una carta Che è più forte On the play Rispetto che on the draw A me sembra troppo lenta Non mi convince Sinceramente A me questa non convince Then of the bugbeer Terra Rossa Animabile Al solito Entra in gioco Dappata Controli due o più Altre terre Da mana rosso Fino alla fine del turno Con quattro mana Diventa una 3 o 2 Gobelizio Con Quando questa creatura Attacca Crea un pupazzo Cosa Ma questa è fortissima No questa è fortissima No questa è sballata Dai che cazzo è Questa è fortissima Questa qua Quando attacca Metti un goblin 1 o 1 Attaccante Dappato Ed è gratis Praticamente Questa roba Bisogna capire In quali mazzi È meglio Faceless even E in quali mazzi Sono meglio Queste qui Faceless even È incredibile È possibile Che si giochino Anche entrambe Nonostante non dia Mana in nevato Te ne sbatti il cazzo Tu in mano rosso Puoi giocare Sia questa che quella Perché no Perché non posso giocare Sia questa che quella Allora Primo drago Che non costa mille milioni Ed è mitico Ed è Addentrato Nei ghiacciai Come può essere scarsa Questa carta Maledizione Io leggo 0 di 5 In chat Allora 4 mano 4 3 Volare Cautela Il colore è brutto Però l'artwork è fantastico Ok quindi Allora 4 mano 4 3 Volare Cautela Quando muore ti lascia Un equipaggiamento Che dà più 2 più 0 E ti fa tappare le creature Mentre attacchi Beh A me non sembra La carta scarsa di magic Cioè mi sembra La carta da standard Una carta da standard Forse È da standard Postel drain Forse Mono white Fa una pressione La madonna E' una carta da white Winnie Sì Poi ti mette Questo equipaggiamento Gradis a terra A un certo punto Anche una gradurina Di merda 1 1 Poi diventa Nade 1 Quando attacca Ti tappa Elder Gargaroth Che ne so Ti tappa La bloccante mortale A me piace A me piace Secondo me è forte E poi beh Bellissimo artwork Mi piace anche il concept E' molto figa Sta carta ragazzi Andiamo avanti Attenzione Vedo una cosa Di un'ignoranza assoluta 3 mano 3 1 Volare Non può bloccare Partiamo benissimo 3 mano 3 1 Volare Non può bloccare Poi questa abilità Non può bloccare Che è un malus Quando leggi Che una carta Non può bloccare Già capisci Che sta per Trasudare Ignoranza Capito Già lo percepisci Lo appelle Rengiovanation Quando Flameschool Crepa Esilialo Se lo fai Esilia la carta In cima al tuo mazzo Fino alla fine Del tuo prossimo turno Tu puoi giocare Quella carta Leggi meglio Come leggi meglio Ho letta male Puoi rigiocare anche lui No Ah Posso rigiocare Anche lui stesso Questa è fortissima Ragazzi Questa è una bomba Questa è una bomba 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 Questa bomba Bomba Assolutamente bomba Puoi rigiocare lui Quindi all'infinito Torna tutti i turni Torna tutti i turni Tutti i turni Tutti i turni Se non te lo esiliano Direttamente Che non so Con Scorching Dragonfire Posso dire il nuovo Drop a 3 del mono rosso Posso dire il nuovo Drop a 3 100% del mono rosso Potenzialmente value Infinito in mono rosso Incredibilmente Se seguo le pezze al culo Rispetto alla shade Questa A un certo punto Puoi decidere di Mandarla a cagare E esilare la carta in cima Per trovare una soluzione Alla situazione Forse questa è la carta più forte di oggi Ragazzi Per ora Per il momento Andiamo avanti Attenzione La terra Bianca Vediamo se c'ha Lifeling con attacco improvviso Sbulazza Sbulazza Le caverne Del drago Ghiacciato Con 5 mana Diventa una 3-4 volare Fino al fine del turno Rimane una terra Quindi è un mostro volante Che un certo punto Ad attacco Però costa Minchia tantissimo Attivarlo Per me queste terre Si giocheranno Esattamente tutte Forse è la meno buona Delle terre creature Sì Ma no Diciamo che questa è Quella più evasiva Di tutte Questa è quella più aggro In assoluto Una blu rara Artefatto leggendario Andiamo a leggere Andiamo a leggere Allora tu puoi scegliere Di non stappare La staffa nera Con uno blu e uno incolore Un'altra Artefatto Non pedina Che controlli Diventa una 4-4 Fintanto che La staffa nera Rimane tappata Attiva la sola Come stregoneria Quindi è un modo Di trasformare Con due mana Gli artefatti In 4-4 Beh Non è male per niente Costa pochissimo Tra l'altro E trasformi gli artefatti In 4-4 Però non pedina Non pedina È una grandissima limitazione Ornidottero 4-4 volante Sì 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 Fai questo Turno 1 Ornidottero Questo Tappi 2 E diventa una 4-4 Attacchi Come concept La carta È molto buona Cioè costa Ha i giusti costi Cioè costa 1 E poi si trasforma con 2 Cioè ha tutto Ha tutto quello che deve avere Secondo me è una bella carta Non siete d'accordo? Treasure Chest Costa 3 Con 4 Ah no ci sono i dadi Ci sono i dadi Li hanno messi Lo sapevamo Che me Lo sapevamo Lo sapevamo Lo sapevamo Che avrebbero messo le cose a culo Con i dadi Ladies and gentlemen Posso dire di default Già In B4 La miglior carta di D&D In assoluto Lancia un dado E gioca ad HS Allora con 3 mana Tutto a culo Tutto a culo Con 4 mana Sacrifica E lancia un d Diventi Lancia un diventi Che cosa Allora Lancia un diventi E fai 1 Perdi 3 punti vita Che sfiga Da 2 a 9 Crea 5 tesori Che schifo Posso dire da 2 a 9 Che schifo Visto che creare 5 tesori Sono 5 mana E ne ho spesi 7 in totale Per fare sta robaccia Da 10 a 19 Guadagna 3 E pesca 3 carte Minchiazza È il 5% Che ti esca 1 o 20 45% Invece degli altri 45% 45% E poi 5 e 5 Cerca il tuo mazzo Per una carta Se è una carta artefatto Tu devi metterla in gioco Altrimenti Metti quella carta In la tua mano E mischi il mazzo Ma aspetta Vabbè vinci la partita Vabbè quasi Però insomma Però boh Metti La mozzi Bellissima questa carta La 10 a 19 è ottima Metti 5 tesori Fa un po' cagare Guadagna 3 punti vita E pesca 3 carte È bello Però ti è costato 7 Questo giochetto In totale Allora è un bene Per magic Che faccia schifo Una carta basata sui dati Però è un male Per l'espansione di D&D Perché io Allora che cosa la fai a fare Per prendermi per il culo Per tanto per fare lore Per tanto per fare Per dire Guarda Abbiamo inserito Ciò che vi state aspettando Cari fan di D&D Una carta col D20 Emblematico oggetto Dell'universo di D&D Credo sia una merda Anche in limited Posso dirvi la verità Una carta di merda Secondo me è una carta di merda In tutti i formati In tutti i luoghi In tutti i mari 3 mana Elfo Elfo druido 2-1 Tappa aggiungi un mana verde Per ogni creatore che controlli Ah è la culla di Gea È la culla di Gea È ufficialmente la culla di Gea questa È creatura di Gea Creatura di Gea Lenta come poche cose Lo so Chiedo Cari esperti elfici È forte questa roba Come si giocherà questa in historic Nell'elfi storici Che è un po' che non si gioca Nell'elfi storici entra 100% Ok Sto dicendo Non me ne intendo di elfi Cioè così A prima chitto dici fa schifo Però in elfi Non so Elfi è un luogo strano Il mondo degli elfi Una zona del mondo particolare Un luogo metafisico In cui una carta di merda Che sembra di merda Potrebbe essere fortissima A me sembra brutta Devo essere sincero A me sembra una carta brutta Poi Non lo so Magari Magari anche forte Attenzione Cubo gelatinoso 4 mana 4-3 Quando il cubo gelatinoso Entra in gioco Esilia Una Creatura Controllata da un avversario Non Uzz Che non lascia Il campo di battaglia Cubo gelatinoso Terrore di ogni dungeon Vero? Dissolve Uno nero e X Metti una creatura A bersaglio Un costo di mana X Esiliata Con gelatinoso Cube Il suo cimitero Ok Quindi fa rimozione In due tempi Allora Partiamo dicendo Che non è Skyclay Apparition 4-3 è grassa Cioè Ha un body Cioè La cosa bella Di questa carta È che ha un body Gigantesco Diciamo Per quello che fa Di solito Queste carte Non hanno Non hanno Un body Fortissimo No Tipo Il chupacabra Era 2-2 Si spaccavano The spot Subito È ovvio È chiaro Non è la stessa cosa Però appunto Proprio per quello Aveva un body Di merda No Skyclay Apparition E 3-2 Deputi Era tipo 1-3 Insomma queste creature Di solito Non hanno un body Grossissimo Questo è 4-3 Ha un body Di tutto rispetto Per quello che fa E lo so che Ciò paga per più forte Grazie Lo so che è più forte Ma infatti La forza di questa cosa È il body Capito Herd in efficacia Ma ne guadagna In body Cioè stai mettendo Un mostro Che t'ammazza In 5 turni Potenzialmente Chupacabra 10 attacchi Deve fare Per vincere Per dire Ha statistiche Grossissime Gli togli il bloccante E hai messo una 4-3 Se te la sparano Pazienza Vabbè Il limited è fortissimo Poco fortissimo Il limited è bomba assoluta Secondo me è una bella carta Anche da Constructed Sicuramente fortissimo Il limited Secondo me è una buona carta Anche da Constructed Cioè tu metti Una minaccia Togli la bloccante Se me lo ammazzi Pazienza Giusto Cioè che cazzo Me ne frega Se me lo ammazzi Me l'hai ammazzato Va bene Intanto io T'ho tolto Magari la bloccante Per un turno Ho tolto Le castagne Devi avere la rimozione Se non hai la rimozione Poi col male in eccesso Con il male in eccesso Te lo dissolvo E te l'ho ammazzato per sempre Sei quasi mai triste Di pescarlo questo Assolutamente no Infatti Non muore da bonecrusher E gli puoi esiliare bonecrusher Gli puoi esiliare bonecrusher Quindi questo sconfigge bonecrusher Attenzione 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 Creature leggendaria Orrore Solito gli orrori Sono storicamente Ingiocabili Vediamo se questo qui è forte Tremana 3-2 Quando una creatura Che controlli Viene bloccata Tu la puoi far tornare Nella tua mano Ok Quindi la mia creatura bloccata Mi ritorno in mano Quando una Ho più creatura Che controlli Infliggo la data Un combattimento A un giocatore E pesco una carta Quindi Massimo Può pescare una carta a volta Quindi è un Toschi Che non ce l'ha fatta Vabbè La merda assoluta ragazzi In questa raccoglia Devo scena È veramente una carta Di merda ingiocabile Muore da bonecrusher giant Tra l'altro Tu turno 3 Fai questo Tutto felice Scodinsolante Io con due mana Ancora non ho fatto l'endrop Bonecrusher giant Prendi Le carte Le figurine Fai questo gesto Con le mani E te ne vai a casa Il limited Può essere buona Allora Con molti Enter the battlefield Però il limited Cioè se hai molti Enter the battlefield Il limited Può essere molto Molto forte Quindi tu Attacchi con la creatura Che ha Enter the battlefield Che ti vuoi rimbalzare in mano Tu attacchi con quella Lui la persona Te la può ammazzare Ti attacchi con una 1-1 Con una 2-2 Il tuo avversario Deve decidere Se farti riprendere in mano Quella creatura E farti rifare l'effetto Enter the battlefield O farti pescare una carta Quindi il limited È una buona carta Un bel design da limited Ingiocabile Inconstructed Costa 1 rosso 1 incolore Orb of Dragonkind P1 aggiungi 2 mana In qualsiasi combinazione Di colori Spendi questo mana Solo per lanciare Draghidi O abilità attiva Dei draghidi Attenzione Quindi una mindstone Praticamente Che ti fixa il mana Attenzione Attenzione Leggiamo il secondo effetto Fa anche altre cose Tappa 1 Sacrifica l'orb Guarda le prime 7 carte Del tuo grimorio Tu puoi rivelare un drago E aggiungerlo alla tua mano Metti il resto in fondo Del grimorio In ordine random È proprio una mindstone È proprio una mindstone Più forte In realtà In realtà non tanto Cioè dipende Ci sono alcune situazioni In cui mindstone È più forte Perché mindstone Ti fa lanciare anche spell Non drago Questo è soltanto Spell drago Questa è una gran carta In mazzo draghi È un gran buff Per i mazzi draghi Un acceleratore di mana Che fa fi Che fixa E che quando non ti serve più Ti fa pescare un drago Dal mazzo Questa la giochi Quattro pair Sei pair Dodici pair Il mazzo draghi Tutti quelli che ci entrano Puoi mettere uno in più Nel mazzo Tanto non ti fanno tech check Ne metti cinque Secondo me di questo Il sarulfo Il sarulfo torna 3-3 Come dico Due mana 3-3 Fina ora è sarulfo Due mana 3-3 Fina ora è sarulfo Pactatics Quando Attacca Sei attaccato con Con creature Con forza sei o più Questo combattimento Pesca una carta Cosa E due mana 3-3 Cosa Fino alla fine del turno Con quattro mana Il pack leader A forza costituzione 5-3 Bastardi 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 Perché non l'hanno fatto Diventare 6-3 Bastardi Se diventava 6-3 O 6-2 Anche 6-2 Era meglio Ti attivava E ti pescavi la carta Allora Il verde Incazzato Come sempre Come sempre Va bene Comunque mi sembra Veramente ottima La carta Poi si trasforma Pure in un mostro Mortale 5-3 Allora The book of Vile Darkness È una mitica È un artefatto Leggendario Mitico Che costa 3 neri Per termina neri Devi fare veramente Tanta roba Oltre ad armi Devotion Allora Inizio della tua fase finale Se hai perso Due o più punti di più In questo turno Caga un 2-2 Va bene È facile perdere punti di vita Nel nero Voglio Poi Esilia il libro E tutti gli artefatti E controlli Nominati I of Vecna And end of Vecna Create a Vecna Una creatura 8-8 Leggendaria Zompi Pedina Con Indistruttibile Guadagna Tutte le abilità Triggered Delle 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 Carte esiliate Ma quale Che cazzo Sono le altre cose Devi esiliare L'occhio di Vecna E la mano di Vecna Questo è il libro Di Vecna Quindi ci serve Occhio E mano Occhio mano Occhio mano Occhio mano Devi giocare Con FPS Deve essere power Altrimenti non lo puoi giocare Quindi occhio mano E libro Occhio mano E libro Ehm Se esili tutta sta robaccia Metti in gioco Una 8-8 Indistruttibile Senza volare Bello Senza X-Proof Bello C'è una specie di dark Posso dire un dark depth Dei Occhio mano Occhio Prezzemolo E finocchio Dottor Zan Non stavo alludendo A quello che lei pensa Siccome saranno tre I giorni Di Le giornate degli spoiler Ci mostreranno Un pezzo di Vecna Al giorno Oggi ci hanno mostrato Il libro Di Vecna Domani magari L'occhio E dopodomani La mano Questo potrebbe creare Un nuovo archetipo Questa roba Speriamo di sia A questo punto Altrimenti Xodia Nel cestino dell'umido Via Rullo di tamburi Mitica drago Della magia Notturna 4 mana 5 Cosa? Cosa? Zompi drago Ebbondet Dracolic È un Drago Skeletor Che semiglia Un po' Un teschio Evocazzo 4 mana 5 e 2 Flash Volare Entra in gioco Tappato Ma che sei cretino Tu puoi lanciare Ebbondet Dracolic Dal tuo cimitero Se una creatura Non nominata Ebbondet Dracolic Crepa In questo turno Dragonero Occhi Torti Eeeh Fa recursion Dal cimitero Però Solo quando ti ammazzano La creatura Non lo so Ragazzi Questa carta A me non mi convince Sì Limited è chiaro Che è fortissima Secondo me In Constructed Sta roba Non ce la fa Io dico Che non ce la fa Mi sembra lenta Non lo so Mi sembra lenta Ragazzi Anch'io la vedo Più per aggro Sinceramente Devo essere sincero La vedo pure io Molto di più per aggro Fatto sta che Mi sembra Tipo infinite volte Più debole di Rankle 5 mana 4-3 Volare Lifelink Rapidità Rapidità Lifelink è più forte Di travolgere Molto più forte Volare Lifelink Rapidità È tanta roba Ragazzi Pare più forte Del drago di prima Posso dire la verità Posso dire la verità È molto più forte Del drago di prima Mi sembra Molto più forte 5 mana Boh Non è male Questa carta Secondo me Ma questa sai cos'è È una carta Da Gessky Da Gessky Midrange Bella carta Da Gessky Mi ricorda un po' L'angelo dei fulmini Il 4 mana 3-4 Volare Cautela Volare Cautela Rapidità Lo ricordate? Si giocava un sacco In standard Del passato La midrange Non da aggro Da midrange Il tuo pensiero magari Ti smorca con le creaturine Del resto Tu passi volando E nel frattempo Guadagni anche Un bel po' di vite Andiamo avanti Bella carta però Bella carta Mi è piaciuta Attenzione La gelatina ocre La gelatina ocre Costa 1 verde X Vabbè Comunque Arrolla Che vuol dire Arrolla Travolgere Arrolla Arrolla E arrolla E arrolla E arrolla Che non arrolli mai Arrolla Renditi utile Arrolli E arrolli Una volta ogni tanto E l'arrolli una Che non l'arrolla mai Un mana Verde E X Creatura Uzz Arrolla Travolgere Entra in gioco Con X Segnalini Più o più Uno su di S Divide Quando Crepa Crea due o più Segnalini Più o più Uno su di S Si crea un token Che è una sua copia All'inizio Della prossima fase finale Il token Entra in gioco Con la metà Dei segnalini Più o più Uno Arrodondati per difetto Beh 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 Si arrolla All'infinito Non muore mai Cioè torna da sempre Minchia Ma è un Cancer assoluto Allora Torna sempre Però è sempre Arrodondata per difetto Quindi Una 4-4 Diventa 2-2 Una 2-2 diventa 1-1 Beh È tornata più volte Comunque Non è leggendario Minchia Potrebbe essere forte Sì potrebbe essere forte Perché il fatto che ritorni Due, tre, quattro volte C'è veramente Tanta roba A meno che ovviamente Non venga esiliata A quel punto Maramao perché sei morto Un mana nero E un incolore 3-2 Zombie soldato Entra in gioco tappato Quando lui infligge danno Una creatura Che sta per morire Crea una Una pedina Zombie 2-2 Ed esilia quella carta Quindi La sua creatura Che gli sta per morire Gli ha la esili E tu caghi un 2-2 Se lui blocca Con una 1-1 Questo mi rimane in vita E creo una 2-2 Giusto? A me sembra una carta buona Non è eccezionale Ma è buona È una buona carta Entra in gioco Pure tappata Non è eccezionale Perché Tra l'altro Contro control Non serve a niente Cioè non serve a niente È con 2 mana 3-2 Smorca O meglio shade Che ritorna Con landfall Puoi fare anche 3 per 1 In alcune situazioni Saranno più rare Però puoi 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 farla lottare Effettivamente Puoi farla lottare Su un pezzo più piccolo Non lo so su che cosa A me piace La butto lì La butto lì Secondo me Questa Sarà l'espansione Di standard Più forte Dall'uscita di Eldraine Per me Il fatto che Ci sia il primo crossover Della storia di Magic Il fatto che ci sia Tantissima attenzione Anche da parte Di gente Che magari Gioca a Dungeons & Dragons Ma non gioca a Magic Mi aspetto un uro Mi aspetto un urino Un urina Un urina Un urina Magari D&D Si prospetta Una big espansione di magia In uscita L'8 Di luglio Cari amici del mondo Di Youtube Che state vedendo questa review Che dura soltanto 12 ore Tagliata Però spero in pochissimo tempo Quindi uscirà un video al giorno Parliamo tutti i giorni Qui su Twitch Pure se voi siete di Twitch In questo istante Parliamo tutti i giorni Di D&D Forgotten Realms Da oggi fino a Quindi martedì percorso di D&D Nel giro di tre giorni Quindi 29 30 E 1 Di luglio Quindi l'1 di luglio Termineranno Gli spoiler Incredibile Stavolta 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 Tutti gli spoiler In soli tre giorni Quindi Domani Saremo Oltre Il 50% Dell'espansione Rivelata E l'1 di luglio Giovedì Completiamo Completiamo Completamente Cosa ne pensate Vi sta piacendo Datemi le vostre Suggestions Le vostre feel Sulla questione Dite Dite Scrivete Scrivete Scrivete